Don Carno Misilmeri e Athletic Club Palermo, una di fronte all'altra, in palio l'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di eccellenza di fronte, i biancorossi di Tumminia, reduci dalla sconfitta di misura sul campo dell'Unitas Sciacca e i nero-rosa di Mister Giannusa che hanno vinto sul campo del Marineo Domenica, si comincia con una palla goal proprio per la formazione ospite sull'asse degli ex mercanti e Mendola, poi la palla arriva a Graziano che non riesce a ribadirla in porta al quinto minuto, azione d'angolo per la Don Carlo con Lucera che scodella sulla testa di Mancuso, il quale colpisce la traversa a Ragone battuto, ma come sempre la legge del calcio è spietata, questa volta la legge del calcio è doppia perché arriva il cross di Graziano, non arriva Cancitano, arriva invece Luigi Mendola, doppia legge come detto, quella del gol dell'ex e quella del il gol sbagliato, gol subito, doppia legge che punisce la Don Carlo Misilmeri, non esulta Luigi Mendola che a Misilmeri ha scritto pagine importanti della sua carriera, Don Carlo che però reagisce subito da grande squadra che gioca bene a calcio, qui pace, innesca Lucera che va sul fondo, va alla conclusione col sinistro, deviata da Corsino in calcio d'angolo non senza brividi, ma attenzione qui all'angolo di Lucera, la palla che spiove, viene sfiorata, poi prova ad arrivare Cossentino, il quale rientra in campo dopo due partite di stop, ma non riesce a inquadrare la porta, poco prima del quarto d'ora, ancora Athletic Club che ci prova, ancora con Mendola che stoppa, guarda la porta, calcia, trova la respinta di Zummo, conclusione violentissima di Luigi Mendola, bravo però il numero uno è la Don Carlo a farsi trovare pronto, al sedicesimo poi, la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa a mettere fuori, arriva Federico dalle retrovie, conclusione che si perde alta sopra la traversa, 20 minuti e 30, punizione Don Carlo dallo spicolo destro dell'attacco, ci prova girando la barriera Raimondo Lucera, si fa trovare pronto Ragone che due minuti e mezzo dopo fronteggia un'altra punizione, questa volta col Mancino, questa volta Riccardo Pellegrino, ma vola sotto l'incrocio Ragone, doppia grande parata del portiere dell'Athletic Club che qui attacca con un calcio d'angolo battuto da Mercanti, palla sul secondo palo, prova ad arrivare Giuliano che prova a bissare il gol segnato da ex da Mendola, ma occhio qui, 31 e 20, punizione Don Carlo Misilmeri, Raimondo Lucera a calcia, la palla non è irresistibile, ma non è irresistibile neanche Ragone che lascia entrare la palla, è il gol dell'1 a 1, è il gol di Raimondo Lucera che si prende la squadra sulle spalle e realizza la rete del pareggio poco dopo la mezz'ora, un gol meritato dalla formazione di Mister Tumminia per quanto fatto vedere anche dopo il gol di Mendola ed è questa l'occasione con cui la Don Carlo riesce ad equilibrare ma attenzione qui a Matera che va a pressare, Beffa anche a Morello, si presenta a tu per tu con Ragone, lo salta ma ci vuole, la sforbiciata di Gianmarco Corsino, inesauribile il capitano dell'Athletic Club, qui siamo al secondo tempo con Federico che arma il destro di Lucera Lucera che converge, va a calciare a giro, non inquadra però lo specchio della porta, poi 55esimo, il calcio d'angolo sempre battuto da Lucera con la palla che rimane in area Pastorella, non riesce a indirizzarla, la colpisce, forse con sufficienza con l'esterno destro, palla fuori, poi superata l'ora di gioco, attacca con Mercanti l'Athletic Club Palermo, serie di finte, il cross col sinistro, la palla che spiuve in mezzo, allontanata sui piedi, di consiglio, che però spara altissimo, minuto 68, gioca male qui il pallone Giuliano, Lucera alza la testa, guarda la porta, è un folle pensiero il suo, bravo Ragone indietreggiare con i tempi giusti, a toglierla dalla porta prima dell'uscita bassa protetta da Giuliano, minuto 73, azione insistita dell'Atletic, allontanato qui il pallone, con ancora la giocata verso Mendolo, il quale arriva di testa poi a vuoto Pellegrino, che innesca Mercanti, il destro di Mercanti, respinto da Zummo, ma l'attacco non è finito, perché Corsino lo alimenta, scarica il pallone su Alessi, che si gira, spara col sinistro, solo la traversa, nega l'1-2 all'Atletic, che ci va davvero vicino, ma un paio di minuti dopo calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri, col destro di pace, scodellato in mezzo, colpo di testa di Cosentino, che per poco non trova il gol del 2-1, gol del 2-1 che cerca la Don Carlo nel finale, punizione del subentrato romano, Ferrara ci prova con la rovesciata, pallone che si perde fuori, ed è di fatto questa l'ultima emozione di una bellissima partita con Don Carlo e Atletic Club Palermo che pareggiano per 1-1, la questione passaggio del turno è rinviata tra due settimane sul campo di Nero Rosa allo stadio Favazza di Terrasini, si ripartirà da una situazione di equilibrio e si ripartirà con un'altra bella partita in programma da Sportisili, è tutto, alla prossima!